su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al nostro canale. Grazie di cuore. Da solo la verità sa qual è che lei come tutti gli ossessionati dell'omofobia non fate altro che nascondere probabilmente qualcosa che reprimete fin dalla nascita. Questa è la verità. Questa è la verità e quello che penso io è che pensano tanti altri italiani e lei può arrivare massimo a 500 mila voti perché per fortuna gli italiani non sono stupidi. Replica. Guardi lei mi sta portando fortuna in merito al suo parere che io sia represso o meno non credo che lei sia laureata in psichiatria o psicologia. Neanche lei lo è. Se ho bisogno di farmi analizzare vado da uno specialista non vengo certo da lei quindi mi auguro insomma la esorto a pensare bene sulle parole che ha espresso visto che non mi conosce, non mi ha mai incontrato e sono parole dette in libertà. Le moderi per cortesia perché io non mi sono mai espresso nei suoi confronti. Le moderi detto da mannaccio fa un po' ridere. No però le...